Eccoci rientrati in diretta ancora con voi per parlare di un altro caso di cronaca che è quello relativo ad Alice Neri. Ricordiamo la donna di 32 anni trovata morta carbonizzata nella sua auto lo scorso 18 novembre nelle campagne di Concordia direttamente nello Modenese. Naturalmente ci si sta concentrando molto su quella che è una figura che è fuggita, così come dichiarato, ovvero quella relativa a Mohamed. Mohamed che è stato fermato in quella del territorio francese per poi essere riportato nuovamente qui in Italia. Ci sono però degli aggiornamenti in merito perché un testimone ha raccontato di aver visto Alice Neri la notte in cui è stata uccisa baciare il collega Marco con cui aveva trascorso la serata per poi avvicinarsi a Mohamed Galul, principale sospettato del suo omicidio. Insomma, altre intrecci che escono fuori, che cerchiamo dunque di analizzare sotto ogni punto di vista, sotto ogni minimo dettaglio in compagnia di Gabriella Mazzeo di Fanpage. Buonasera Gabriella. Buonasera. Buonasera, buonasera a voi. E diamo il benvenuto anche a Luigi Caracciolo, criminologo che torna a farci compagnia dopo la settimana scorsa che purtroppo la tecnologia non ci è stata molto amica. Buonasera. Buonasera a tutti, buonasera. Gabriella, io comincerei con te, visto che tu stai seguendo il caso praticamente da quando è successo. Ho appena letto questo aggiornamento, che peraltro possiamo leggere anche sulle pagine di Fanpage. Questo è un ostacolo in più a quella che è la ricerca della verità? Beh, possiamo dire di sì. In realtà ci sono diverse cose che restano ancora un mistero, tipo quelle riguardanti gli spostamenti dell'automobile di Alice la sera del delitto. Prima di tutto c'è da capire chi ci fosse alla guida dell'auto dopo le tre di notte, quando Alice ha incontrato Galulla, appunto, che adesso si trova in carcere. C'è da capire se ci fosse effettivamente ancora lei alla guida dell'automobile o se fosse già morta. E questa è una cosa che dovrà essere chiarita con l'interrogatorio di Galulla che per il momento si è a basso della facoltà di non rispondere dopo aver rilasciato una dichiarazione spontanea sul perché si trovasse in Francia al momento dell'arresto. E quindi ha spiegato di non essere fuggito ma di essere andato all'estero per motivi di lavoro. Dottor Caracciolo, noi qua dobbiamo analizzare naturalmente quello che abbiamo in nostro possesso. E quello che abbiamo in nostro possesso, come ha detto Gabriele, è il fatto che comunque è stato riportato in territorio italiano Moabed che però ancora non ha rilasciato, a parte quello che ha detto lei, appunto, di ansia, si abbassa la facoltà di non rispondere. E soprattutto qua è entrata in scena anche un'altra figura, così come abbiamo potuto leggere dall'aggiornamento del caso, ovvero il collega Marco. Tutto questo naturalmente come lo si può equilibrare, ecco, se la possiamo mettere in questo modo? Perché non diciamo una falsità quando magari, sottolineiamo come anche la giuria popolare, abbia visto già in Moabed una figura da attaccare e quello sarebbe eventualmente anche un errore? Guardi, è una situazione oggettivamente complicata perché bisognerebbe effettuare quella che tecnicamente viene chiamata una autopsia psicologica, cioè in altri termini, le migliori informazioni potrebbe fornirle proprio la vittima attraverso l'analisi, lo studio e le indagini che riguardano il proprio vissuto. Sembra sufficientemente strano ma ci muoviamo in punta di piedi perché le informazioni delle quali disponiamo sono soltanto le fonti giornalistiche, ma sembra ad esempio abbastanza curioso che i due non si conoscessero e questo potrà essere chiarito soltanto nel momento in cui viene presa in considerazione, appunto lo dicevo un attimo fa, il vissuto della vittima, per tentare di comprendere se in realtà vi fosse già un precedente rapporto amicale, di conoscenza o quant'altro, perché sempre da fonti giornalistiche mi sembra di ricordare che Marco Cucci abbia dichiarato che nel momento in cui ha salutato la vittima abbia ricevuto questa informazione, cioè che di lì a poco avrebbe dovuto incontrarsi con un suo ex collega di lavoro. Questo, se fosse confermato, diventerebbe un elemento che mette in relazione un pregresso tra Mohamed e la vittima, pregressa a conoscenza che al momento non è dato di accertare. Un altro elemento che io trovo abbastanza strano, che in qualche modo può fornire una indicazione su quello che veniva raccontato prima dalla giornalista, e cioè il momento reale della morte di Alice Neri, perché credo di aver letto che una prima ricerca sul cellulare, sulle mappe del cellulare, una prima ricerca riguardasse proprio l'abitazione della vittima. E ora non si capisce bene perché una persona, per tornare alla propria abitazione, e dovrebbe conoscere sufficientemente bene, fa una ricerca attraverso un dispositivo delle mappe sul cellulare. È un altro elemento, diciamo, anomalo in questa vicenda. Io volevo chiederle una cosa. A Gabriella. No, 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 al seminologo. A Dottor Caracciolo. Dottore, volevo capire, vista le modalità di uccisione di Alice Neri, che è brutale, il profilo di chi commette una cosa del genere, perché insomma, bruciare un corpo, una macchina, tutto quanto, cioè che tipo di profilo è? Cioè, pare quasi una sorta di rifiuto della figura femminile in questo caso, anche per la brutalità. Ma anche questo è un elemento sul quale io non ho sufficienti dati, perché non mi è chiaro, è un'informazione che non posseggo, quale sarebbe stato, ad esempio, il combustibile utilizzato. Perché in un primo momento, mi pare di ricordare che la moglie di Mohamed, o un familiare, abbia dichiarato che Mohamed rientra a casa con i vestiti sporti d'olio. Questo lascerebbe presupporre una premeditazione, non si va in giro con le taniche di carburante o di altro liquido infiammabile. E se vi è stata una premeditazione, come dire, questo lascia ancora meno comprensibile le modalità dell'uccisione. Poi, per quanto riguarda il profilo di chi agisce in maniera così brutale, beh, ci potrebbe anche essere, al di là di ogni altra disquisizione, ci potrebbe anche essere l'elementare necessità di cancellare alcune tracce. Certo, non è usuale, insomma, che si commettano omicidi al di fuori dell'ambito delle organizzazioni criminali con queste modalità, non è per nulla usuale. Pertanto, l'elemento che diventa importante, secondo me, ai fini delle indagini è proprio quello di stabilire, e sarà stato senz'altro stabilito, con quale tipo di combustibile è stato dato fuoco all'autovettura. E non è mica detto che dietro ci sia necessariamente un particolare tipo di profilo criminale. È anche possibile che il gesto sia stato originato dalla semplice necessità appunto di cancellare alcune tracce o alcune prove. Gabriella, invece, noi comunque analizziamo anche le nuove situazioni, gli aggiornamenti di questo caso, però, proprio per quanto riguarda sempre la figura di Mohamed, non scordiamoci quello che fu, e che parliamo anche proprio con te, se non è erodo, del fatto delle intercettazioni con la moglie, che praticamente gli disse in soldoni io ti copro, e quello praticamente gioca un ruolo fondamentale, poi in attesa anche di quello che Mohamed dirà, perché comunque si abbassa della facoltà di non rispondere. Sì, esatto, sembrerebbe che la moglie abbia detto in alcune intercettazioni al marito, dirò che non so dove sei, in relazione al suo viaggio all'estero appunto. I due si sarebbero incontrati alla stazione di Milano, sempre secondo indiscrezioni, ovviamente che arrivano da chi sta indagando, insomma, e sembrerebbe che si siano incontrati alla stazione di Milano e che proprio in questa occasione la moglie abbia detto a Mohamed che lo avrebbe coperto e che avrebbe finto di non sapere dove si trovasse, che poi, in effetti, è vero che la moglie non sapesse dove effettivamente Mohamed si trovasse al momento. Lui è stato rintracciato in Francia, ma sappiamo che si è spostato diverse volte, probabilmente per evitare la cattura, sembrerebbe che l'abbia fatto per evitare la cattura, ma ovviamente ulteriori dettagli, diciamo, saranno certificati e accertati quando Mohamed rilascerà una sua dichiarazione, quindi risponderà alle domande degli inquirenti. È possibile anche che dopo l'interrogatorio di Mohamed la figura del collega di Marco possa diventare anche centrale, perché il testimone ha detto, io sono sicuro, ho visto baciarsi i due, sono sicuro al 90%, e poi lei salire in macchina quando poi verrà raggiunta da Mohamed che salirà sul lato passeggero per poi andarsene la macchina, naturalmente. Cioè, in questo modo, ora come ora, naturalmente siamo nel campo delle ipotesi, può ragionare anche come anche ad un Marco possibile protagonista della situazione, perché nulla vieta magari che Marco possa aver visto dare quel bacio fugace a Mohamed, così come viene raccontato adesso e preso anche da un attacco di possibile gelosia. Si potrebbe ragionare anche in questo modo, come una figura che c'entra invece, poi naturalmente in attesa di Mohamed, ripetiamo. Ma sicuramente la posizione del collega è da analizzare, ci sono diversi punti nel suo comportamento, diciamo che non sono chiarissimi, tanto per iniziare, sempre da quello che è emerso, sembrerebbe che lui dopo l'appuntamento l'abbia lasciata da sola nel parcheggio e le abbia detto, mandami un messaggio quando arrivi a casa. Poi, non ricevendo questo messaggio, non ha approfondito dove Alice potesse essere, dove si trovasse. Appare anche strano che abbia lasciato da sola una donna, comunque di notte, alle due del mattino in un parcheggio praticamente vuoto e che poi non abbia, diciamo, neppure parlato con i familiari di Alice. Quando lei è scomparsa, il collega non ha cercato di contattare i familiari, né il marito, né la madre. La sua posizione comunque appare molto particolare, insomma. Quindi potrebbe essere anche sì che il collega non abbia detto tutto quello che sa sulla vicenda. Gabriele, ma potrebbe essere adesso, vedendo anche la situazione relativa al collega Marco, che possa essere preso anche in esame un suo possibile interrogatorio? Lui per il momento risulta indagato come atto dovuto, diciamo. Quindi tutto è possibile. È possibile che venga ascoltato di nuovo, certo, però al momento sembra abbastanza remota come ipotesi. Si aspetta prima Mohamed in caso per poter andare anche eventualmente a parlare nuovamente con il collega? Sì, penso che prima ci sarà un interrogatorio che riguarderà Mohamed, che comunque è il principale sospettato, e poi si valuterà eventualmente di riascoltare il collega. Per il momento è un'ipotesi abbastanza improbabile, ma nulla, insomma, vieta che possa diventare più concreta nelle prossime settimane, nei prossimi giorni. Dobbiamo capire, appunto, quali saranno gli sviluppi. Deve parlare lui, praticamente, alla fine che si è a basso della facoltà di non rispondere. Parliamo naturalmente di Mohamed. È un'analisi, dottor Caracciolo, che qui potrebbe forse tirare in ballo un vecchio tema, che comunque abbiamo imparato a conoscere in anni di cronaca nera, ovvero il tema, possibilmente, anche della gelosia, forse, che scatena determinate reazioni. Reazioni che a volte vengono compiute anche per poi realizzare dopo quello che è successo. È una possibilità questa, un tipo di ragionamento che si può attraversare? Guardi, diciamo che se si fa riferimento a quello che volgarmente come notizia giornalistica viene definito raptus, il raptus non ha nessuna validità, in pratica non esiste né in termini clinici, né in termini criminologici. È possibile che ci siano i cosiddetti omicidi accidentali, cioè quelli che nascono e che maturano, non dalla precisa intenzione di arrivare al risultato. Magari si cerca il gesto violento, ma non l'esito letale. In questo caso, devo dire che il momento della gelosia a me pare abbastanza fragile, perché non è dato sapere, lo ripeto, se vi fosse già un qualche rapporto di relazione anche soltanto amicale tra la vittima e Mohamed. L'ipotesi assolutamente, come dire, che non si basa su nulla se non su una mia considerazione, rispetto alla quale il comportamento di Marco Cucci, che lascia comunque Alice Neri da sola in un parcheggio, in una zona non frequentata, anche a ridosso della chiusura dell'esercizio commerciale, sarebbe interessante, potrebbe aprire degli scenari davvero interessanti, se magari vi fosse un rapporto di conoscenza fra i tre, quindi tra Mohamed, tra Marco Cucci e la vittima Alice Neri. Questo potrebbe in qualche modo giustificare il comportamento di Marco Cucci, che oggettivamente appare abbastanza anomalo, cioè nessuno di noi lascerebbe, ma neanche un amico o una persona qualsiasi in quella situazione logistica, a meno che io non abbia certezza che la persona che viene lasciata debba incontrarsi con qualcuno a mia volta conosciuto da me. Ecco, mettiamola così. Gabriella, prima di salutarti perché siamo vicini alla chiusura, un'altra questione è anche quella relativa al telefono, quella potrebbe essere anche un'altra possibilità per cercare di capire il percorso che ha fatto la macchina perché sul telefono di Alice su Google Maps al di là del percorso è puntata a una nuova ricerca esattamente alle 4 e 50 del mattino quindi di una frazione di concorde ricordiamo di Vallada e qua naturalmente anche il capire bisogna capire se l'ha fatta lei, se l'ha fatta il suo astartino determinerà la situazione anche il percorso per far capire anche cosa è successo quando poi sono andati via da quel bar diciamo che forse è una delle prove tra le più importanti Ecco, sì quello che riguarda il telefono è sicuramente un punto cruciale per capire cosa è successo effettivamente la notte del delitto Alice è vero che sul cellulare sono state trovate diverse ricerche e che l'auto ha fatto diversi spostamenti prima è partita dal parcheggio e ha fermato sul retro del locale dove si è trattenuta per un'ora senza scendere dalla macchina poi sono ripartiti per andare verso le campagne di Concordia che è più o meno la zona dove vive anche il 29enne che al momento è l'attuale il principale sospettato diciamo e poi è spuntata quest'ultima ricerca che riguarda un piccolo comune nel Mantovano fatta appunto intorno alle 4 e 50 del mattino finora si sapeva diciamo che Alice i suoi spostamenti e l'attività ecco anche di ricerca del telefono erano arrivate fino alle 3 più o meno del mattino dopodiché non si sapeva null'altro su quello che è accaduto quella notte questa nuova ricerca mette un altro punto interrogativo alla vicenda chi ha fatto la ricerca perché e perché un comune nel Mantovano appunto cosa dovesse fare Alice dove dovesse andare e se effettivamente Alice fosse ancora viva al momento di quella ricerca quindi anche questo è un dettaglio che può emergere soltanto con una un interrogatorio per Mohamed o comunque per il collega insomma con un ulteriore approfondimento delle indagini sulle quali comunque gli inquirenti restano molto riservati cioè ci sono dei dettagli che emergono delle diciamo delle cose che comunque trapelano da queste indagini ma gli inquirenti trattengono molto le redini di questa inchiesta ecco vogliono avere le idee più chiare prima di poter andare avanti e poter sapere anche qualcosa in più e noi naturalmente anche qui come sempre rimarremo a seguire tutti gli aggiornamenti del caso intanto ringraziamo Gabriella Gabriella Mazzeo di Fanpage per essere stata con noi grazie a voi grazie a voi e grazie anche al dottor Luigi Caracciolo per averci fatto compagnia posso aggiungere velocemente una considerazione finale guardia ha solo un minutino a disposizione meno di un minuto meno di un minuto vorrei soltanto ricordare che le indagini che portano a conclusioni valide sono quelle nei casi omicidiari che prendono in considerazione su tre elementi più di altri il movente l'opportunità e i mezzi mi pare che in questo caso tranne il movente che rimane da dimostrare per il resto si stia lavorando abbastanza bene grazie 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 mille ancora dottor Caracciolo buonanotte alla prossima buonanotte a voi ci dobbiamo fermare poi ritorniamo insieme per il penultimo blocco e qua invece lo possiamo dire facciamo uno spoiler veloce si va a parlare di quel libro che sta facendo tanto discutere quello del principe Henry spero a tra poco che si va a parlare